ciao a tutti bentornati nel mio canale le ricette di franci 74 oggi prepariamo insieme le pavassinasa oggi prepariamo i spavassinasa sono dei dolci tipici sardi che venivano preparati solitamente in prossimità della festività di unissanti qui ormai li troviamo sempre nei supermercati nei pastifici nelle pasticcerie perché anche i turisti che vengono vogliono assaporare questi buonissimi dolci tipici della nostra terra e se li portano via come appunto un souvenir quindi ci sono tutto l'anno adesso sono tipici perché ci sono tutti i profumi della nostra terra come per esempio limone l'arancio ma anche la frutta secca che è buonissima come le mandorle le noci e anche un pochino di di uva sultanina che noi chiamiamo savavassa quindi da qui il nome noi in sardegna prepariamo due tipi di pavassinasa che andiamo a preparare come queste che andiamo a preparare oggi e il spavassinasa de saba cioè i dolci che contengono anche la sapa cioè il mosto dell'uva oggi noi andiamo a preparare invece i spavassinasa diciamo normali ecco ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano i spavassinasa ecco i nostri ingredienti ci occorrono 350 g di farina 00 150 g di zucchero la scorza di un'arancia e di un limone grattugiato 25 g di latte un pizzico di sale 10 g di ammoniaca per dolci due uova 70 g di strutto 70 g di mandorle 70 g di vetta 70 g di noci della cannella per la copertura e sagappa ci occorrono 160 g di zucchero a velo e due albumi d'uovo e per la decorazione della momperiglia allora mettiamo la farina in una ciotola un po più grande mettiamo anche lo zucchero uniamo un pizzico di sale mischiliamo il tutto ok adesso grattugiamo l'arancia direttamente nel nostro contenitore l'arancia mi raccomando io lo dico sempre la laviamo e l'asciughiamo se è possibile magari scegliamo un'arancia biologica grattugiamo anche limone stessa cosa che ho detto per l'arancia se lo troviamo biologico tanto meglio se invece lo compriamo al supermercato siamo attenti perché in commercio ci sono degli agrumi che hanno la buccia non edibile e scegliamo ovviamente stiamo attenti a scegliere quella con la buccia edibile aggiungiamo anche un po di cannella andiamo a mixare allora prima di iniziare la preparazione io ho sciolto lo strutto con il latte quindi ce l'ho in questo pentolino a tempo debito poi aggiungerò anche l'ammoniaca creerò appunto che si creerà una sorta di reazione chimica quindi una specie di schiuma e lo unirò poi al composto adesso aggiungiamo le uova andiamo ad amalgamare il tutto ho aggiunto l'ammoniaca allo strutto con il latte vedete quello che vi dicevo prima ha formato questa bella schiumetta l'aggiungo piano piano al mio composto dunque non preoccupatevi perché l'ammoniaca per dolci sviluppa un odore piuttosto forte però in cottura evaporerà non preoccupatevi ecco ho trasferito l'impasto sul piano da lavoro ho messo un po di farina così non si appiccica perché adesso in questo momento è un po appiccicoso l'impasto e lo andiamo a lavorare per circa 5-10 minuti al massimo nel frattempo vi volevo ricordare che se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi attivando anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video mi raccomando venite anche a trovarmi sui miei social che sono facebook instagram e twitter allora ecco qua come risulta il nostro impasto bello liscio lo mettiamo un attimino da parte lo copriamo con un panno e noi nel frattempo andiamo a trittare grossolanamente con il coltello la frutta secca adesso trittiamo le noci allora inizialmente vi ho parlato anche delle pavastinas de zaba che sono le pavastine appunto dove si mette la sapa che è il mosto dell'uva che si può preparare anche in casa se vi fa piacere andate a vedere la mia ricetta della sapa fatta in casa vi allego qui la scheda e il link del video ecco qui abbiamo trittato quindi la frutta secca ho preso di nuovo in mano la pasta la vado un attimino a stendere in questo modo e unisco prima le noci vado a chiudere riappiacchisco la pasta e unisco anche le mandorle tritate allora una volta che ho amalgamato per bene incorporato tutta la frutta secca adesso riapro l'impasto e mettiamo piano piano anche l'uvetta sava bassa come si dice in sardo ovviamente io prima l'ho fatta ammorbidire nell'acqua circa due ore quindi l'ho parzialmente strizzata l'ho posizionata in questa ciotolina prima di metterla la stritto ancora un altro pochino la vado a posizionare se vediamo che l'impasto è molto appiccicoso mettiamo un po' di farina sul piano da lavoro e ora non ditemi non mi piace l'uva pasta perché la ricetta è questa scherzo naturalmente comunque ci sono dei dolci tipici tardi che secondo me certi ingredienti sono imprescindibili quindi diciamo che li dobbiamo mettere ok il nostro impasto è pronto lo facciamo riposare per circa mezz'ora anche un'ora se vogliamo anche in frigorifero dipende dalla temperatura se la facciamo d'estate sicuramente dobbiamo metterlo in frigorifero trascorso il tempo di riposo ho messo il mio impasto direttamente sul piano da lavoro che ho ben infarinato adesso pian piano lo appiantiremo voglio fare la forma di un rettangolo perché poi andrò a tagliare le mie pavassinas a rombi con i classici rombi poi se abbiamo in casa una formina ancora meglio facciamo direttamente con la formina una volta che ho appiattito la pasta circa un centimetro con un coltello vado a tracciare quindi a tagliare e poi formerò i rombi una teglia è già pronta mettiamo in forno per 15 minuti temperatura a 180 gradi forno già caldo la prima teglia è cotta i spavassinas a sono quasi praticamente pronte adesso si presentano molto rustiche vedete come sono perché dobbiamo ancora classarle diventeranno completamente diverse adesso le facciamo completamente refreddare poi prepareremo la glassa e le finiremo completamente ho posizionato i spavassinasa in dei vassoi abbastanza grandi in modo tale che poi ho più facilità quando devo glassare quindi preparo la glassa divido gli albumi dai tuorli quindi metto l'albume a temperatura ambiente mi raccomando sempre quando dobbiamo montare gli albumi ok attenzione poi a non contaminare l'albume perché sennò non monterà mai cioè l'albume deve essere completamente pulito dal tuorlo non ci deve essere traccia di tuorlo ok ci mettiamo vicino lo zucchero a velo cominciamo a montare gli albumi adesso iniziamo ad aggiungere anche lo zucchero a velo ora la glassa è pronta andiamo a prendere un pennellino e posizioniamo appunto su ogni biscottino la nostra glassa prendiamo quindi una pavassina in mano e cominciamo a glassarla una parte di pavassina è già glassata adesso ci mettiamo i zuccherini colorati gli zuccherini colorati che in sardo si chiamano sardra gera guardate come sono carini sono veramente in un attimo questi biscotti che prima erano diciamo che sono dei biscottini alla fine che erano molto rustici sono trasformati in dolcetti molto molto graziosi sono tutte glassate ho messo anche sardra gera come si dice in sardo questi zuccherini colorati mi piacciono tanto sono carinissime mi spiace soltanto non poter fare la prova assaggio perché mi piacciono tantissimo per farvi vedere come sono dentro devono solidificare quindi la glassa si deve asciugare e deve solidificare quindi servirà un po' di tempo almeno 2-3 ore bisogna avere un po' di pazienza per questi dolci se vi è piaciuta comunque questa bellissima ricetta sarda vi dico come sempre di fare un bel like di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto attivando la campanella di notifica così non perdete nessun video venitemi anche a trovare sui miei social che sono facebook, instagram e twitter non dimenticatevi del mio sito internet che è www.lericette.frances74.com e non perdetevi il prossimo video ciao 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 ciao